La filosofia di ultima è quella di offrire pari opportunità di crescita a tutti i membri della community. Guidati da questa idea. Abbiamo creato un nuovo pool di liquidità DeFiU con una soglia minima di ingresso. Ora gli utenti hanno a disposizione due pool. Il VIP pool o pool rosso. Per accedervi è necessaria una licenza del valore di diverse migliaia di euro. Il community pool o pool verde. Per iniziare a fare profitto è sufficiente una licenza del valore di almeno 110 euro. Il pool verde è il modo ideale di avviare la propria attività con ultima, per chi ha risorse limitate. Per chi invece dispone di risorse sufficienti e vuole moltiplicare rapidamente è meglio partire direttamente dal VIP pool. Allora, come funziona il community pool? Primo passo. Per accedere al community pool, l'utente deve acquistare una licenza Unity speciale del valore di almeno 110 euro. Secondo passo. Concludere uno split contract e ricevere dei token speciali Unity Split. Una volta pagato lo split contract, il pool si riempie automaticamente di token ultima, che vengono poi congelati al suo interno. Terzo passo. Trasferire i token Unity Split su Smart Wallet. Infine, quarto passo. Non dimenticare di richiedere regolarmente la tua ricompensa. Le ricompense verranno corrisposte solo dal community pool in token ultima. Il pool di liquidità di ultima risolvono il principale problema limitante del Bitcoin, il costante aumento del costo dell'estrazione delle monete. Così, mentre agli albori del mercato delle criptovalute il minting era alla portata di qualsiasi possessore di un personal computer, negli ultimi anni per un'estrazione redditizia è diventato necessario investire migliaia di dollari in attrezzature. Ultima, invece, fissa il costo dell'ingresso e lo rende accessibile praticamente a qualunque persona nel mondo. Il nuovo community pool è un'opportunità unica per massimizzare i tuoi vantaggi unendoti fin dall'inizio e diventare una vera balena di ultima.